Grazie a tutti Ecco, regà, comunque, ti dico basta di che cosa? Ma è vero che facevi la guardia in passato? Ma frate, ho fatto il militare, frate, quale guardia, frate? Quale guardia? Ho fatto il militare, frate, quale guardia? Un giorno uscirà un documentario reale autorizzato da me sulla mia vita reale, sulla mia vita privata, sulle mie abitudini, la vita vera di Ottavore e di Roma fuori dalla telecamera Uscirà un documentario, non vi preoccupate E vi dico un'altra cosa Aspetta un po' Oh, mazza sta macchina, mazza quanto è bella come la mia, oh Bella questa Allora, aspettate che sta macchina è un po' complessa Per faria acqua da ogni parte qua Allora, un po' di un po' Allora, così Oh, ok Manda l'aria sopra E metti la galla Ecco qua Vi avronchete, non vi via Comunque, c'è stato de fatto che Il signor Colombiano, stamattina Dopo che ha visto la live Non so se avete fatto caso Ha messo una storia dove Si andava a mettere subito con le spalle al muro Perché sa Che quando sbaglia a parlare Poi Eh, su, ha una finestra E ora che ha suonato balla la finestra Ecco Renato, ti ho Hai capito? Il Colombiano ha fatto la storia Per mettersi che le spalle al muro Poi quando arrivano persone che Spiegano Che ti sei fatto tu tatuaggi in faccia Ma che in realtà Fai sorridere dentro un po' l'aglio Tutto a posto Emanuele Non è che ho litigato con Alessandro Alessandro un periodo L'ha mantenuto brasiliano Poi da te strada, no? Perché poi arriva Un periodo l'ha mantenuto Massimiliano, Brasile Un periodo l'ho mantenuto io Un periodo l'ha mantenuto Mambolosco Un periodo quell'altra persona Tanto di rispetto il cantante Un periodo l'ho sta mantenendo Algero E ora vediamo il prossimo chi è Però Barbistro è il posto giusto Però vi dico una cosa Eh, è ora che hai suonato? Eh, è ora che hai suonato? Ti do una frenata secco Ti faccio fare un cid che non l'hai mai visto in vita tua Ma l'hai suonato un'altra volta È una signora, mi devo stare zitto È una ragazza Devo stare zitto Educazione sempre Comunque c'è de fatto Che sto soggetto Perché Del soggetto si parla De non scarparo Perché Regà E non scarparo Lo dico io Vi faccio vedere La vita privata Vi faccio vedere un po' di video Un po' di foto poi Dalla colombiana Vi faccio vedere Grazie a tutti